Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Spintalk che ho voluto dedicare quest'oggi a Thomas Phillips O'Neill Jr. Un nome che a molti di voi dirà assolutamente poco, conosciuto dagli amici come Tip O'Neill e per lunghi anni speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d'America. Ma perché oggi voglio parlarvi di Tip O'Neill? Perché a lui si deve la popolarità di un termine o di un'espressione di una locuzione che è fondamentale nelle nostre campagne elettorali di prossimità. All politics is local. Tutta la politica è locale. All politics is local, quindi diceva Tip O'Neill, per ricordare ai candidati che prima di pensare alle grandi trasformazioni, prima di pensare ai grandi progetti, bisognava in qualche modo soddisfare le esigenze quotidiane degli elettori, dei propri elettori. Partiamo dalla quotidianità, partiamo da quelli che sono i bisogni piccoli, micro, di ogni singolo cittadino. Ecco perché Tip O'Neill è diventato per noi che siamo impegnati nelle campagne elettorali di prossimità, nelle campagne alla costoletta, in qualche modo un nome tutelare. Grazie alla lente di ingrandimento che ci ha fornito Tip O'Neill, possiamo capire, possiamo vedere come in Italia negli ultimi anni il mercato che sta dando maggior soddisfazione alla comunicazione politica è quello delle campagne elettorali di prossimità. È qui che le agenzie in qualche modo possono incidere veramente sugli esi della campagna ed è un mercato che è in continua crescita. Inoltre, l'esperienza che lo spin doctor, il campaign manager, l'agenzia che si occupa di comunicazione politica riesce a maturare nelle campagne elettorali di prossimità è un'esperienza che in qualche modo può essere sicuramente, con i giusti accorgimenti, trasferita, traslata in campagne elettorali più ampie. Diversamente invece, quando l'agenzia ha maturato soltanto l'esperienza in grandi campagne, in campagne di grandi dimensioni, gli risulta più difficile in qualche modo adattare il know-how, l'esperienza, il proprio playbook alle campagne di prossimità. Ecco perché oggi abbiamo dedicato questo nuovo numero di Spintalk a Tipo Neil, ricordando il suo grande insegnamento. All politics is local. Grazie ancora e arrivederci al prossimo appuntamento con Spintalk.